Insieme da 26 anni, hanno affrontato sempre tutto insieme, oggi giocano anche a tennis in coppia. Rosario e Susanna, un amore che dura da 26 anni che i due non smettono di raccontare con il sorriso. Sulle spiagge paradisiache della Sardegna, si trovano a Bullasimius, ecco che la coppia si concede per qualche scatto e alcune battute, poche, essenziali, che però vanno a raccontare un rapporto consolidato e colmo d'amore. I due hanno iniziato a giocare a tennis, questo sport era una passione adolescenziale di Susanna Biondo e ora che Fiorello si lo ha scoperto la coppia ha iniziato a condividere racchette e palline. Io e lei facciamo tutte le cose insieme, anche questa ha spiegato il mattatore della TV italiana. Si può dire che in un periodo di gente che si separa, in cui sembra che la gente non riesca più a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d'esempio siamo contenti, aggiunge Rosario che forse non si riferiva solo alla separazione di Totti e Blasi, ma a come le relazioni oggi finiscano molto velocemente. A giugno, la vacanza di Rosario e Susanna aveva dato spettacolo. I due sono stati paparazzati mentre si concedevano una doccia con tanto di baci appassionati. L'amore li unisce dal 1996, poi il matrimonio nel 2003 con solo 17 invitati, e infine la nascita della loro bambina, Angelica, che oggi ha 15 anni. In programma a settembre il tour del suo show per il teatro Fiorello presenta, Fiorello, e la sua edicola su Rai 1 la mattina presto per far iniziare agli italiani la giornata con allegria. Lo dico sempre, è Susanna che mi sprona, perché io sono pigro e vorrei stare sul divano e non fare niente, invece faccio il tour, vado a Sanremo, sempre spinto da lei ha dichiarato Fiorello. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.